Il mondo del turismo è un mondo molto sfaccettato, non solo in Italia ma in Europa e nel resto del mondo. Le facoltà o gli studi che preparano un candidato per entrare positivamente sono varie. Sicuramente soprattutto in fase iniziale o in fase di raffinamento delle competenze una laura specifica in hospitality può fare la forte differenza. A noi di NH piace pensare che con Yulm si possano co-creare alcuni percorsi interessanti di sviluppo competenze. Quindi noi realizziamo insieme a Yulm docenze in alcuni master dedicati specificamente al turismo e in più abbiamo originato alcuni percorsi molto specialistici per alcune figure che ancora non si trovano molto sul mercato. Per quanto riguarda giovani neolaureati, quello che ci interessa maggiormente durante i colloqui è testare la loro attitudine perché il presupposto è che le competenze tecniche non siano così elevate. Come competenze tecniche sono tutte quelle dell'ospitality management, quindi operations management, raving eccetera. Sulla parte invece di attitudini, soprattutto lavoro in gruppo e flessibilità e capacità di apprendere sono le tre macro competenze che andiamo a cercare in fase di colloquio iniziale. Attualmente noi stiamo vedendo una crescita molto importante di tutte le figure di BEC, ad esempio nel revenue management, che riescono ad orientare strategicamente le scelte direzionali e di governance dei prodotti dell'ospitalità. In più si affacciano nel front alcune figure, ne cito una di guest relation, che facilitano la decommodization del nostro settore. La decommodization è una parola difficile che però vuol dire caratterizzare maggiormente il prodotto di ospitalità che si offre e quindi nell'approccio con il cliente che si fa la differenza fondamentale e la guest relation manager è uno di questi che stanno emergendo.